In amicinamento di 5 Partite Partenza subito va arrivato e prende il momento di operazione e vi avrò forne e vi sollicito alla partenza con curiosamente che fa avvicinare già del di Nambia sui tre di testa con Mia Paola che è risposto di Caraglia prontano il pulvono che vi mette in testa qui dal primo passaggio tra l'antico che dice che dice che è la mia pausa che è la mia pausa che è la mia pausa io soffre mia Paola Grazie. Grazie. Grazie.